La città metropolitana di Torino ha ospitato il 10 novembre i partner italiani, spagnoli, catalani e francesi della rete Arco Latino. L'Assemblea ha fatto registrare nel corso dei lavori la nomina dei nuovi vertici. Il testimone della Presidenza è passato per i prossimi due anni dall'Italia con la provincia di Mantova alla Spagna con la Diputazione di Tarragona. La consigliera metropolitana delegata alle relazioni internazionali, Anna Merlin, ha confermato l'impegno e l'interesse dell'amministrazione verso le relazioni internazionali. La città metropolitana è molto contenta di ospitare questo convegno, questo incontro che è un incontro di comuni che si affacciano sull'area del Mediterraneo. Crediamo che la città metropolitana abbia un ruolo fondamentale nel nostro territorio e deve continuare ad averlo anche nel futuro. In un futuro sempre più di integrazione dei fenomeni, dei rifugiati e dell'immigrazione. Un ruolo importante e non deve essere quindi solo un ruolo di emergenza ma un ruolo effettivo di integrazione col territorio. Ma l'occasione dell'Assemblea ha consentito ai soci di Arco Latino di confrontarsi sul tema quanto mai attuale delle migrazioni, dell'accoglienza, esaminando le buone pratiche in corso attraverso le relazioni di due tecnici esperti e preparati, come Irene Ponzo Di Fieri, forum internazionale ed europeo di ricerche sull'immigrazione, e Oscar Camps, fondatore e direttore della ONG Proactiva Open Arms di Badalona. Secondo lei il desiderio, il tentativo di Arco Latino di estendere la propria rete alla riva sud del Mediterraneo ha uno scopo? Assolutamente centrale, arrivo da Beirut, sono arrivata giusto ieri, dove con un'iniziativa simile abbiamo cercato, e sempre con la città metropolitana di Torino, aperto un dialogo con altre città della riva sud ed è fondamentale perché è l'unico modo per riuscire a risolvere quella che viene giustamente o meno chiamata crisi migratoria, oltre al fatto che anche quei paesi che sono da tempo paesi di emigrazione stanno diventando paesi di immigrazione, e quindi affrontano sfide simili alle nostre e lo scambio quindi diventa ancora più fruttuoso. Credo che sia fondamentale e indispensabile poter relazionarci anche con i paesi, da dove poi partono, dove diventano piattaforma di partenza di tutto questo popolo che lascia i propri paesi di origine per affacciarsi sul Mediterraneo e quindi in modo molto sostanziale anche sull'Italia. Anche se l'Italia, nonostante quello che si dice, poi in effetti non è il paese votato per rimanere da parte di queste persone che molto spesso mirano ad andare verso i paesi del nord.